regia e pubblicità per scelta per campare nell'attesa allora per caso all'inizio è arrivata così mi piaceva mi piacevano le storie non avevo voglia di andare a roma ho detto cosa c'è a milano e c'era la pubblicità e allora piano piano ho cominciato a conoscerle eccetera poi per campare sicuramente perché io vivo di questo mestiere sono contento anche di vivere questo mestiere nell'attesa di non so cosa mi piace già questo poi dopo non so cosa sarà in futuro non ho idea però sicuramente sicuramente per campare divertendosi anche un pochino qual è il lavoro della tua ril che più ti rappresenta dunque io credo uno spot un po strano ma al quale sono molto molto legato che è un film che feci per la scuola d'arte drammatica paolo grassi che è una scuola che io frequento da sempre sono molto amico della paolo grassi una bellissima realtà milanese e italiana io feci questo questo film che ci ha dato tante soddisfazioni diciamo un giro per il mondo ma è stato bellissimo e mi rappresenta secondo me perché c'era sicuramente un'idea creativa c'era un'agenzia importante come Leo Burnett quindi voglio dire quello era il meccanismo ma nello stesso tempo c'era anche lo spazio per un racconto e c'era un prodotto ma non c'era niente di istituzionale in quella cosa per cui io penso che lì dentro ci sia tutto il mio modo di fare la regia che poi è sostanzialmente recitazione Invece è il lavoro che invidi nella red di qualcun altro? Allora io per contratto non invidio proprio non ce la faccio Di pubblicità credo nulla Invece guardo con molta ammirazione i tanti colleghi che sono riusciti a fare un lungometraggio Questa è una cosa che a me credo piacerebbe moltissimo Ma è così difficile in Italia? Dunque io ovviamente ho avuto un contatto molto forte in questo senso Per quanto mi riguarda è quasi impossibile Se ti vuoi staccare dai canoni della commedia Anche un pochino intelligente Però quella roba lì Un po' più della televisione Ecco Se vuoi fare quella cosa ce la fai E' difficile Ma se vuoi fare qualcosa di diverso La loi du marché è un film francese uscito l'anno scorso Meraviglioso, straordinario Che in Italia nessun produttore farà mai Credo che sia veramente molto difficile fare un cinema un pochino più internazionale In Italia sì Però ci sono dei colleghi che sono riusciti a fare delle ottime cose E quello hanno tutta la mia ammirazione La creatività italiana, torniamo alla pubblicità Certo Vince poco ai festival internazionali Purtroppo sì Perché? Cosa ci manca? Allora guarda io credo che Io ho lavorato dieci anni in agenzia Conosco i creativi Conosco il lavoro delle agenzie Che spessissimo è fatto di sabato e di domenica e di notte Cioè veramente Credo che non ci manchi nulla se non una cosa Direttori marketing coraggiosi Direttori marketing coraggiosi Quando tu vai a Cannes E vedi i film meravigliosi E vedi i film meravigliosi stranieri che vincono C'è dietro un'agenzia e dei creativi evidentemente bravissimi Li abbiamo anche noi Gli è uguali Ma dietro c'è un direttore marketing Coraggioso Che si fida Mi piacerebbe che i nostri direttori marketing Si fidassero di più Dei direttori creativi Quindi è questo che Tu faresti subito Alla comunicazione nostrana Nell'interesse di tutti Per farla funzionare meglio Guarda io sì Credo che Che la fiducia sia La base di tutto Se si potesse fare un gioco Per una settimana Credo che sarebbe un gioco molto utile Scambiarci di ruolo Allora i direttori marketing fanno i direttori creativi I direttori creativi fanno gli account I registi fanno i direttori marketing I cost controller fanno i producer I producer e i cost controller Un casino di una settimana bestiale Dopodiché si ricomincia da zero Tutti molto meglio Secondo me Ne sono certa anch'io Entrando negli aspetti più tecnici Dalla pellicola al digitale Una figata Oppure si stava meglio Quando si stava peggio? Allora Sicuramente è una figata Nel senso che Ci sono moltissime cose Grandi opportunità Che il digitale si porta con sé Poi Vale moltissimo per i giovani Per esempio Io Quando ho iniziato Ho iniziato con la pellicola Lo dovevi proprio dimostrare Ma alla grande Che non Che non buttavi via i soldi Quindi secondo me è una figata Poi ha un grosso limite Vabbè un po' la qualità È molto buona oggi Ma insomma Dal negativo passa la luce Da un file No Quindi questo già è una certa differenza Il digitale secondo me Lascia indietro un po' La grammatica e la sintassi del cinema È molto È facile e possibile Sbagliare col digitale Non è un grosso danno Quando Abbiamo iniziato con la pellicola Giovani registi Arrivati sul set C'erano i direttori di produzione Belli grossi Che ti dicevano Ciccio tu hai dieci scatole Non undici Alla settima ti faccio un fischio Allora quello vuol dire Fare le inquadrature in un certo modo Cioè Imparare proprio la grammatica E Quella era una grande cosa Però Digitale è bellissimo Una volta c'erano gli spot Adesso Virali Brand and content Storytelling Insomma Nomi diversi per dire la stessa cosa Oppure si capisce qualcosa È chiaro? Secondo me sono Nomi diversi per dire la stessa cosa E la cosa è la storia Io credo che Il nostro mondo Della comunicazione Ma veramente molto allargato Quello della pubblicità sicuramente Ma in generale tutto Si basi su una storia Se la storia è buona Non ha importanza dove la racconti Tu puoi raccontare La storia in un cortile o in un castello Se la storia è buona Funziona Nel cortile e nel castello Se la storia non è buona Il castello non è sufficiente No Cosa fai nel tempo libero? Ma ultimamente trattamenti È una roba Cioè non Cioè non hai tempo libero No Devo fare trattamenti Per domani ci puoi fare un trattamento Ne ho altri due No vabbè Però vabbè Quindi ultimamente trattamenti Quando riesco a non fare trattamenti Mi piace moltissimo andare a teatro Ieri sera sono andato a vedere uno spettacolo meraviglioso E la locandiera Fatta in una maniera molto nuova Domani vado a vedere un monologo di un bravissimo attore siciliano Al ringhiera Al teatro ringhiera Vado moltissimo a teatro Sono molto amico degli attori Li frequento da sempre Vengo dalla recitazione Quella è la cosa che mi piace Dopo il teatro tendenzialmente bevo del vino rosso Che non guasta No Il potere dei no nella tua carriera Li hai detti Insomma ti hanno portato dei risultati Sono serviti Io non credo ai no Nel senso che non mi piace dirli Non mi piace nemmeno riceverli Penso che ci sia sempre un altro modo Nella pubblicità ha maggior ragione Il nostro mestiere di gruppo Non esiste il re Nemmeno il cliente è il re Quindi credo che si possa discutere Non credo ai no Mi sembrano sempre un muro Invece preferisco parlare Magari non siamo d'accordo Vabbè uno dei due cede Però meglio parlare Visto che hai avuto esperienze poliedriche L'agenzia, attore Ma oggi regista Se non fossi regista Cosa ti resterebbe da fare nella vita? Allora a me piace molto scrivere E all'inizio in realtà Avevo pensato di fare il copywriter Quindi quello sarebbe stato un mestiere Che mi sarebbe piaciuto veramente tantissimo Sogno un'enoteca Con davanti Ritorna il vino rosso Con davanti Una collina E un cane da qualche parte Che non è male Rivaldi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti